Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Lulù Selassie di recente, in un'intervista rilasciata a Chi, ha parlato di un particolare abbastanza triste che riguarda il suo rapporto con Manuel Bortuzzo In tantissimi negli ultimi periodi hanno pensato che tra Lulù Selassie e Manuel Bortuzzo ci fosse aree di crisi A poco sono servite le parole della stessa princess, che ha provato a tranquillizzare i fan sulla loro relazione, che a detta sua starebbe procedendo nel migliore dei modi I fan della coppia continuano a notare troppe stranezze. Un esempio? La principessa e Franco Bortuzzo, il padre di Manuel, avrebbero smesso di seguirsi sui social Ma qual è la verità quindi? Lo ha spiegato la stessa Lulù in un'intervista rilasciata a Chi Lulù Selassie e la verità sul suo rapporto con Manuel Bortuzzo Tra Lulù Selassie e Manuel Bortuzzo c'è oppure non c'è aree di crisi? Secondo Alessandro Rosico, esperto di gossi, le cose non andrebbero nel migliore dei modi Secondo lui, infatti, il fatto che Franco Bortuzzo, il padre del notatore, non veda di buon occhio la principessa e le sue amicizie, avrebbe creato una rottura tra i ragazzi, che oggi sarebbero molto delusi e tristi Punto secondo l'esperto di gossip, insomma la coppia non sarebbe quindi così salda come vuole apparire Eppure i due hanno rilasciato da pochissimo un'intervista a Chi, il settimanale diretto proprio da Alfonso Signorini che tecnicamente li ha fatti incontrare, in cui hanno parlato proprio di come stanno davvero le cose Ecco cosa hanno detto.Come stanno davvero le cose tra i due ex bipponi? Lulù e Emmanuel, intervistati da Chi, hanno affermato che le cose tra di loro in realtà stanno andando molto bene e che il loro rapporto è cambiato rispetto a quando erano ancora nella casa più spiata di Italia Lì infatti non avevano nulla da fare, mentre fuori la loro vita è molto frenetica, ma l'intensità del loro rapporto è esattamente la stessa I due, che oggi convivono, stanno anche pensando di allargare la famiglia e stanno aspettando il momento giusto per farlo Del resto Lulù ha affermato più volte di avere voglia di avere un figlio da giovane e, adesso che ha trovato quello che ama definire l'amore della sua vita, è pronta a fare il grande passo C'è un però, potrebbe esserci un ostacolo al loro rapporto, rappresentato proprio da Franco Bortuzzo A quanto pare, le voci sulla frattura tra la principessa ed il padre del notatore sono vere Come ha affermato lei stessa, per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisce Sono molto vera, non riesco a fingere Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere sincera ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno, ma come si evolveranno le cose Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Ciao